TG12 ben trovati al via all'indagine promossa dalla Regione Sardegna in collaborazione con l'ATP di Sassari sulla mobilità dei sardi. L'analisi è finalizzata a creare un nuovo sistema tarifario regionale e in base alle esigenze degli utenti. Ce ne parla Valeria Secchi. Al via all'indagine promossa dalla Regione Sardegna in collaborazione con l'ATP di Sassari sulle abitudini e le esigenze di mobilità dei sardi. L'intervento è finalizzato alla creazione di un nuovo sistema tarifario regionale della Sardegna per tutti i servizi di trasporto pubblico sul territorio regionale, dagli autobus urbani ed extraurbani fino alla metropolitana di superficie la rete ferroviaria tradizionale. Il progetto prevede un campione di indagini articolato e vasso tra tecniche di intervento differenziate che prevedono la raccolta di oltre 5.000 interviste, al fine di garantire una valenza statistica essenziale per avviare scelte progettuali efficaci, finalizzate al miglioramento sia organizzativo che tecnologico del trasporto pubblico regionale. Il questionario, che sarà proposto anche alla cittadinanza sassarese, indagherà tra le altre cose le modalità di spostamento dell'utenza, le abitudini di viaggio, la frequenza dei tragitti percorsi, l'origine, la destinazione abituale, l'utilizzo dei titoli di viaggio singoli o abbonamenti, fino a conoscere qual è il pensiero dell'utenza sui punti di forza o debolezza del sistema di trasporto pubblico locale. Siamo felici di collaborare con la Regione Sardegna per questo importante progetto, ha dichiarato il Presidente di ATP Sassari, Roberto Mura, perché condurrà l'isola ed anche la città di Sassari verso la ridefinizione complessiva del trasporto pubblico, sempre più vicino alle esigenze reali di mobilità dei cittadini e sicuramente al passo coi tempi. E ora la cronaca in fiamme, questa mattina tissi un magazzino in disuso con auto e altre masserizie. L'incendio che si è sviluppato verso le 8 del mattino per cause ancora in corso di accertamento ha distrutto il tetto in Eternite e incendiato tutti i rottami che erano stati abbandonati dentro il garage. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate da Sassari, che hanno impegnato oltre quattro ore prima di riuscire a spegnere il fuoco e bonificare il locale. Per mettere in sicurezza l'area è intervenuta anche una pattuglia della locale. E cambiamo argomento, domani 1 maggio prende il via Sassari nel santuario di San Pietro di Silchi il mese Mariano. Il primo evento è legato al gremio dei Massai che rinnova la propria festa maggiore in onore della patrona, la Madonna delle Grazie. Al mattino l'estrazione del nuovo obriere maggiore in serata la processione. Sentiamo Luca Foddai. Domani 1 maggio il gremio dei Massai onorerà la patrona, la Madonna delle Grazie, con i consueti eventi che si svolgeranno nel santuario di San Pietro in Silchi in apertura del mese Mariano. Alle 10 verrà celebrata la messa solenne, presieduta dal padre guardiano della comunità dei fratti minori Gianluca Ricci ed animata dal coro Amici del Canto Sardo. Al termine della messa il gremio, alla presenza del padre guardiano, si riunirà in seduta ordinaria nella cappella dell'incoronazione per l'elezione del nuovo obriere maggiore e la conferma delle cariche per l'anno sociale 2018-2019. L'elezione dell'obriere del gremio dei Massai riveste particolare importanza, in quanto è colui che durante la farada scambia con il sindaco il tradizionale augurio a cent'anni a Palazzo di Città e al termine della discesa, a rientro della Municipalità a Palazzo Ducale, viene insediato nell'incarico con la consegna da parte del primo cittadino della bandiera del gremio. Sempre domani, alle 18, l'arcivescovo Monsignor Gianfranco Saba presiederà la messa vespertina. Al termine partirà dal santuario la processione con il simulacro della Beata Vergine delle Grazie. Verrà effettuata una sosta all'ospedale civile per un momento di preghiera per gli ammalati. Al rientro in chiesa verrà in partita la solenne benedizione e saranno eseguiti i brani della tradizione sarda. La tredicesima edizione di Prendas De Itiri conferma l'ottimo livello raggiunto da questa manifestazione folcloristica. Ce ne parla Icoribichesu. Migliaia di persone è la tre giorni di Prendas De Itiri che conquista anche i turisti con la sua vetrina di enogastronomia, artigianato, laboratori, cultura e tradizioni. La tre giorni iniziata venerdì ha offerto un ampio ventaglio di venti affollati gli stand di Piazza Marconi e Piazza 24 Luglio, coi prodotti di qualità dagli olio e carciofi, dai formaggi e salumi al vino e alla birra artigianale, dal miele e dolci. Lungo le vie del centro è stato possibile ammirare l'arte degli orafi, degli scultori di pane, capaci persino a creare le bambole con l'abbigliamento in tirese. E ancora sculture col ferro, oggetti in trachite, graniglia ceramica, creazioni floreali e in tessuto. Il museo della radio, la lavorazione del sapone, gli oggetti d'antiquariato, le moderne creazioni artistiche. Apprezzati i laboratori del ricamo della tessitura, della lavorazione del legno organizzato alla consulta giovanile. Ha stupito inoltre la ricca dotazione della biblioteca francescana di San Pietro in Silchi, l'unica in Sardegna, che in un edificio nato tra 600 e 700 custodisce oltre 60.000 volumi, alcuni dei quali addirittura del 500. Orgoglio del territorio, la cooperativa Light, che mette insieme i 400 elevatori, accomunati la qualità dei prodotti. Prendas De Ittili ha pensato anche a più piccoli, con l'animazione curata da MPS e tornei di mini volley e basket. Il porto di Palma di Mallorca ha ospitato la 35esima edizione di Palma Bot Show, grande successo e boom di visitatori per lo stand Marinas in Sardinia. Vediamo. Palma Bot Show. Si è svolta a Palma di Mallorca la 35esima edizione del Palma Bot Show, in collaborazione con Superyacht Show e Miba. Presenti i porti turistici della Sardegna, anche quest'anno per la terza volta consecutiva nello stand Assonat, l'associazione nazionale di porti turistici uniti in gruppo Marinas in Sardinia e supportati dall'Assonautica Nord Sardegna. Battuti tutti i record in questa edizione, 80.000 metri quadri espositivi, 300 barche fino a 50 metri, 50.000 visitatori. Grande successo e interesse da parte del pubblico per lo stand Marinas in Sardinia. L'unione degli operatori privati è riuscita a rappresentare le bellezze della costa e in particolar modo dei servizi dei porti turistici della Sardegna, sempre all'altezza della qualificata offerta delle imbarcazioni delle Baleari. Ci fermiamo qualche istante per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Grazie a tutti. Bentornati in studio con la pagina sportiva Prova di Forza della Dinamo che vince ad Avellino per 80 a 67 e continua la sua ricorsa ai play-off. I Coribicheso. La Dinamo Banco in Sardegna continua la sua corsa a caccia di un pass per i play-off e si impone alla sfida della tredicesima giornata di ritorno in Irpinia. I giganti conquistano i due punti in palio battendo la Scandone Avellino 80 a 67. In controllo fin dal primo quarto, trascinati da un super Achille Polonara, 16 punti, 3 da 3 da 2 e 3 su 5 da 3 e 5 rimbalzi, i giganti bianco-blu sono bravi a gestire il ritmo partita nell'arco dei 40 contenendo l'offersiva Irpina grazie a un ottimo lavoro in squadra. Alla fine cinque uomini in doppia cifra per il coach Markoski. Oltre a Polonair, bene Scott Bamford, ha referto a 16 punti, 4 rimbalzi e 3 assist e son Jones, 15 punti e 4 rimbalzi. Determinante l'apporto il Rock Stipcevic, 11 punti e 5 rimbalzi e Josh Bostic, 10 punti. Debutto in maglia bianco-blu per Lorenzo Bucarelli, ha referto alla lunetta con i primi due punti nelle file da Dinamo Banco in Sardegna. Coach Zare Markoski commenta così la vittoria dei suoi al Paladel Mauro. Vittoria importante, ora dobbiamo pensare a conquistare la quindicesima perché la classifica dopo 30 giornate dice che solo le prime otto proseguono la corsa. Siamo ancora lontani da ogni discorso perché è tutto in volata, possiamo solo goderci questa vittoria e pensare subito a conquistare la prossima. Abbiamo giocato una bella partita, soprattutto in difesa e credo non sia facile su un campo come questo riuscire a restare avanti per 40 minuti. Come ha detto la squadra nello spogliatoio, abbiamo meritato questa vittoria, ognuno ha dato il suo contributo cercando le nostre convinzioni difensive e appongiandoci in attacco sui nostri punti di riferimento che il talento offensivo di questa squadra offre. E ora il calcio, la Torres vince per 2-0 contro l'Ostintino e disputerà la finale di play-off contro l'Atletico Uri. Erano in tanti, tantissimi, allo stadio La Piramide di Sorso per sostenere e spingere la Torres verso una finale play-off che dopo 90 tutti all'attacco è stata conquistata con merito, sebbene solo nei minuti finali. Un risultato che prime la grandissima voglia, la qualità, le ambizioni di un gruppo che è cresciuto attraverso le difficoltà e che non vuol fermarsi dopo aver raggiunto il primo importante traguardo della stagione. Tutti a disposizione per Mister Tortora che recupera Scione e può portare Spinola in panchina. La cronaca si apre con la Torres che si fa subito pericolosa in avanti con le sgroppate di Serrizzo sulla destra. La gara comunque si decide nel filanele alla seconda frazione. Al ventiduesimo lo stintino resta in dieci per il rosso Attuccio che dopo un fallo a giallo nel primo tempo riceve il secondo cartellino al direttore di gara quando mette giù chelo lanciato a rete. La Torres quindi aumenta l'intensità e la sua manovra e sembra in grado di far su alla gara. Il gol però non arriva e il tempo scorre. Al trentaquattresimo Mister Tortora decide che il tempo di inserire Spinola è cercare il pertugio giusto. L'attaccante argentino lo trova al trentanovesimo. Spanno lo serve sulla sinistra, si beve due avversari e dal fondo mette dentro per chelo che ben appostato infila tra palo e rete per il gol dell'1-0 che fa esplodere i gioi al popolo rosso-blu. Spinola mette il suo zampino anche sulla seconda rete di chelo, pallone in profondità negli spazi lasciati liberi a bianco celesti. L'attaccante rosso-blu va velocissimo, entra in area e supera secchi in uscita per il 2-0 che chiude in conti al quarantatresimo. A partita finita arriva un invitabilissimo rosso per Sarrizzo che prima subisce fallo e poi viene provocato agli avversari e reagisce. Palmieri e Conegliano è lì e non fa sconti. Sarà l'Atletico Uri l'avversario per la finale che si disputerà domenica prossima in campo neutro. Intanto ci si goda il momento bellissimo tra le bandiere che sventolano e i cori scanditi all'unisono. Una volta di più la Torres si fa tutt'uno con chi la ama. Erano oltre 500 i tifosi arrivati a Sassadi. Schiacciante vittoria per gli amatori del rugby Alguero contro il Novara con un punteggio di 101-0. Vediamo. Importante vittoria per la squadra del rugby Alguero contro il Novara con un punteggio di 101-0. Con la diciassettesima partita i catalani hanno guadagnato 5 punti in classifica e superato la soglia dei 100 punti. Un record notevole considerando che per raggiungere un tale punteggio è necessario fare almeno 15 mete. La squadra, sotto la supervisione dell'allenatore Marco Anversa, ha mantenuto un livello altissimo di concentrazione per tutta la durata della partita, non solo attaccando in maniera efficiente ma anche offrendo una difesa risoluta che non ha lasciato passare un solo pallone nel Novara. Alguero Regmi ha quindi raggiunto gli 83 punti in classifica, seguiti immediatamente dal Cus Milano, Biella e Monferrato. Quest'ultimo diretto avversario in un'incessante lotta verso la metà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.